Buonasera amici di 7 Gold, ben ritrovati con questa puntata di Diretta Mercato dove daremo i voti a questo calcio a mercato che si è concluso ieri alle 10 di sera con dei botti finali, con il Milan che si rinforza, con finalmente, diranno i tiposi interisti, Icardi che va al Paris Saint Germain, Icardi che per oggi sui social fa capire che potrebbe tornare all'Inter, tra poco ne parliamo, la Juventus che si è mossa molto ma non è riuscita a vendere, anche le romane però si sono mosse probabilmente bene, ne parliamo, ne parliamo con Luca Serafini, ciao Luca, ben ritrovato caro, direttore di calciomercato.com Stefano Agresti, ciao Stefano, ciao buonasera a tutti, ciao Stefano, Michele Borrelli, ciao Paolo e buonasera a tutti, ciao Michele. Interfan TV io me lo dimentico sempre, finalmente adesso non me ne vorrà Stefano ma è finito il mercato perché c'è tre mesi si può fare qualcosa, però Stefano ti spiegherà che il mercato non finisce mai, però insomma ieri sera siamo arrivati a un buon traguardo, ci prendiamo una pausina, poi aspettavo belle notizie di accorciare come hanno chiesto tanti, invece leggono oggi l'Inghilterra, si sono lamentati i grandi club e quindi forse l'Inghilterra che allunga, Noi pensiamo sempre ma se tutti arrivano all'ultimo momento a fare le ultime trattative, ma com'è possibile che un paese accorci i tempi, è impossibile no? Per questo basta cambiare la deadline, perché se la deadline fosse il 31 luglio tutti si affretterebbero il 25 luglio. Però tu pensa, gli allenatori si lamentano, vogliono gli organici completi, è vero ma è tutto un discorso, però poi quando arrivi a fare la preparazione ti rendi conto che hai una lacuna, che hai un buco, che ti manca un giocatore, che uno si rompe e avere tutto il tempo è utile. Ma è pazzesco questo discorso, ma scusa io, no presenta l'ultimo momento, io direi fate pure con comodo, io se volete esco, è un piacere averti a Milano, ciao Marcello. Piacere mio, grazie. Marcello Chirico, tu arrivi adesso, e tra poco ve ne presento un altro, è suspense. Alla seconda giornata del campionato hai ancora degli aggiustamenti da fare, e il mercato è un'opportunità, a parte il fatto che ci mangiamo, le televisioni, i giornali, i siti, eccetera. I tifosi sognano, vanno avanti a pensare, a sperare, a tifare, a interessarsi, infatti ci vivono giornali, televisioni, radio, eccetera. Gli allenatori vogliono le rose complete, no, ma meno male che finisce il 2 settembre, o il 20, o il 5 di ottobre, perché siccome ancora non sono a posto, e ancora hanno da sistemare delle cose, finisce dopo. Dove sta il problema? Dove sta il problema? Dove sta il problema? Poi non tre mesi, non è vero, il ritiro, il ritiro si provano i nuovi schemi, invece no. Ma chi se ne frega, ma i nuovi interpreti, non i nuovi, chi se ne frega degli schemi, il calcio lo fanno i giocatori, lo fanno i campioni. Allora, dalla nostra redazione, per farci capire meglio come sono mosse le squadre in questi giorni, i dettagli delle trattative e dell'ultime ore che potrebbero arrivare nel corso della serata, Jacopo Giavenni, ciao Jacopo. Ciao Paolo, buonasera, ben ritrovati, il day after di questo calciomercato che ha regalato comunque sorprese anche nelle ultime ore. Forse anche più rispetto alla media degli ultimi anni, andremo a analizzare ovviamente tutte queste squadre protagoniste, una sorta di bilancio e poi anche le notizie di serata che arriveranno comunque in redazione e quindi avremo aggiornamenti continui. Per esempio, Jacopo da domani cosa fa? Di cosa passa? Jacopo è presente in redazione, lavora con la redazione, va in onda stabilmente, le cabine. Sarà più intelligente, sarebbe più intelligente comunque chiudere nel momento in cui ogni campionato inizia. Certo. Cioè, perché ha ragione Stefano quando dice, beh beh, ma noi siamo uniformati al resto d'Europa, non è che possiamo sganciarci. Però se la Premier, ad esempio, già incomincia a chiudere il mercato in entrata quando inizia il campionato. L'8 agosto, ma già sono pentiti, ma adesso sono pentiti. Ne parliamo tra poco, perché ripartiamo dalla Lazio. Ecco, vedi. La Lazio e Roma, la Lazio che si è mossa poco, ma Simone Inzaghi sta facendo capire che l'organico è comunque di qualità, invece tanti movimenti per la Roma, l'ultimo Michitariano è arrivato proprio sul Gong. Torniamo con l'ora tra poco. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Giugno doveva fare determinate operazioni. Se non arriva la Juve vende Dzeko. Invece ha scelto Luca Pellegrini. E comunque ha preso tanti giocatori. Zappacosta e Spinazzola per me sono giocatori buoni. Smalling ho qualche dubbio in meno. Veretua a me piace. Diavara è un buon giocatore. Lo stesso Mkhitaryan sono curioso di vedere. L'unica cosa è... 25 milioni per Mancini. 23 milioni. Ecco Mancini un po' troppo perché più abituato nella trattata di Gasperini la difesa a tre. Su Kalini c'ho qualche dubbio. Scicche e Rummio Pupillo anche se ha fatto male a Roma queste da dire. Però se fai un investimento su un giovane poi ci devi credere. Quindi qualcosina magari Fonseca è affascinante a livello di comunicazione. Però gli allenatori stranieri in Italia poi bisogna dargli come diceva Luca il tempo. E non so se questo tempo la Roma l'avrà visto che le competitor... Fonseca è il miglior acquisto di tutta la Roma. di quest'anno. Perché Fonseca io lo ricordo con lo Shakhtar Donetsk... Però devono sostenerlo quando ci saranno magari... Però con lo Shakhtar Donetsk io ho visto delle belle cose. Cioè ha fatto vedere il gioco. Cioè ha fatto vedere un bel gioco. Ho visto che quest'anno siamo tutti impallinati col bel gioco. La Juve prende Sarri. Il Vinter prende Conte. Insomma Fonseca è su quell'orientamento lì. I giocatori che ha preso forse non entusiasmano più di tanto. Anche se si sono mostri abbastanza. Ha una difesa che sicuramente con Manolas... Il miglior Manolas eh. Perché è l'ultimo. Al di là del gol che ha fatto a noi sabato sera. Mi sembra un Manolas veramente in discesa. E si è visto anche con la difesa del Napoli. Cioè nel senso che prendono anche tanti gol quelli del Napoli. Quindi anche se si sono liberati Manolas non l'hanno sicuramente rimpiazzato. Ha dovere secondo me. Perché come diceva prima anche Stefano Smalling. Voglio vederlo. Mancini. È un giovane. Fatto sta che la Roma due anni fa non voglio dire che fosse la rivale più accreditata della Juve. Ma partiva dove partiva il Napoli. Certo. Oggi parte sotto la Lazio. A mio avviso almeno. Sì sì sì. Per cui vuol dire che qualcosa in questa gestione americana della Roma... Ha mancata la qualificazione Champions. La Lazio non va mai in Champions. È perché la Lazio... Però la Roma ha sempre rilanciato a livello di campagna acquisti di... La Roma ha sempre venduto chiunque. Sì sì venduto e comprato però. Proprio perché è entrata in quella spirale di voler fare lo stesso le operazioni. Poi sono venuti in meno quei 50-40... Io penso semplicemente che la Roma... La Roma ha intascato 100 milioni quando ha fatto la semifinale di Champions. La Roma ha incassato soldi dalla Champions. Ha venduto tutti i calciatori. Però non chiude in attivo i bilanci. Cioè Gecko è l'unico calciatore nella gestione americana della Roma che va avanti dal 2011 mi pare. È l'unico calciatore che non è stato ceduto. Era stato ceduto al Chelsea anche lui e non è voluto andare. Ma è l'unico calciatore... Però dico lo tito dei laurenti, sì il passo più lungo della gamba non lo fanno mai. Mentre la Roma ha provato. Torniamo tra due minuti con la Lazio ragazzi. Due minuti. Grazie. 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 Nella testa di Gecko cosa c'è? Amore a un prezzo. Nella testa di Gecko non lo so. Ti posso dire cosa c'è nel contratto di Gecko. Diciamo che al Fanta Calcio non lo compreresti. Sì no ma dico che mi abbiano convinto con un mucchio di soldi. Però tu convinci con un mucchio di soldi un giocatore che l'anno scorso ha avuto una resa veramente... Poi è un giocatore dell'87. 33 anni. 86. Per giunto. Per giunto. 36, 33 anni. Quindi io metterei Rebus anche in Gecko. 86. Marzo 86. Marzo 87. Marzo 87. Marzo 83. Questa la Roma ha tantissime alternative comunque per Fonseca. L'avete vista? Se vuoi vedere il talento. Cioè in Serie A, se vuoi vedere il talento, in Serie A, avere nella stessa squadra, non so, l'esperienza di Gecko e la gioventù di Zaniolo, la gioventù di Under. Cioè sono giocatori, Zaniolo e Under, per esempio, giusto per rimanere a loro due, che sul mercato della Premier ti possono offrire, se fanno una buona stagione, anche più di 50 milioni. Per Under? Cioè se fa bene... Disquilibrati ce ne sono in giro per il calcio, però... No, perché l'Arcela l'ha corteggiato in passato, poi bisogna confermarsi, bisogna avere continuità. Cioè la Roma ha pagato anche cambi d'allenatore, scelte nell'ultimo anno un po' particolari, Monci che è arrivato e se n'è andato. Roma e Napoli secondo me sono state brave negli anni scorsi a dare continuità. Adesso la Roma è un po' saltata. Cioè c'è una differenza fondamentale per Roma e Napoli, che è proprio una differenza vitale. Il Napoli non ha bisogno mai di vendere nessuno, mai. Infatti non ha venduto quelli bari che non vengono. Sì, quella è la strategia che è stata... Ma non è la strategia, sono i conti economici, che il Napoli senza vendere li fa tornare. La Roma vendendo non riesce a farli tornare. Perché poi se vai a vedere i cartellini, la cifra dei cartellini presi dalla Roma in questi anni, sono nettamente superiori a quelli del Napoli. Prima ricordavamo fuori onde tra Pastore, Zonzi... Perché la Roma li prende, poi deve anche vendere perché... No, la Roma vende e poi prende. La Roma vende entro il 30 giugno e poi acquista. Non fa il contrario. Non è che compra e poi vende. La Roma prima vende... Perché magari ogni volta la coperta era sempre corta. Comunque sia la società che la dimensione della Roma è diminuita, ti è ridotta molto. Chi sale e chi scende. Allora, conferma di Milinkovic, Savic, sembrava dovesse partire. Manchester United piace all'Inter, piace alla Juve. Milinkovic gioca ancora nella Lazio. Inzaghi, in orbita Juventus, è ancora qui. Tare, in orbita Milan, è ancora a Roma. Lazzari, un acquisto subito dimostrato di essersi ben integrato nella Lazio. Nessun top player è arrivato. Pochi rinforzi in difesa, è arrivato solo Vavro. Tra l'altro, la notizia di oggi di Wallace, che va allo Sporting Lisbona, se non sbaglio. Manca il vice immobile, è stato confermato Caicedo. Concordate? Luca? Beh, siano i fatti. Non è che ci sia raggiungere molto. Caicedo, la sua parte decolosa la fa sempre. Però delle grandi è quella che è la partita più brillante di tutte. E quindi ha già una struttura collaudatissima, una società collaudata, perfetta, due persone che comandano, una in panchina. Quindi, insomma, in questo momento sono a me sopra all'Atalanta e alla Roma. Per parlare della lotta dell'anno scorso. E in questo momento è sopra all'Atalanta e alla Roma. Per me è sopra anche al Milan. Così tanto. Beh, ma al Milan non so. Il Milan può essere sopra tutti o sotto o andare in Serie B. Io non sarei così drammatico. No, ma come non si può sapere come fai. Ce n'è uno, c'è un giocatore che ha comprato il Milan, sul quale uno mette una fissa e dice questo qua. Non fa di Ben Nasser. Basta. Quindi non si può dire. Il top player del Milan, il Milan ha fatto come il Napoli l'anno scorso, è Gian Paolo. Se funziona lui, se lui riesce a capire, a far giocare la squadra, eccetera, può diventare una strada e a far crescere tutte queste scommesse, allora può diventare una cosa interessante. Per oggi non lo so. Io non posso mettere il Milan tra il terzo e il decimo posto. Stefano, sei d'accordo? No, no, sono d'accordo su tutto. Secondo me il mercato della Lazio è stato un mercato molto intelligente. Mirato nella lacuna che loro avevano individuato già in Zaghi dall'anno scorso. Magico. Magico destro. Hanno preso Lazzari. È chiaro, non è stato un mercato straordinario, però questa è una squadra che ha vinto la Coppa Italia, è arrivata ottava in campionato perché ha mollato alla fine, ha tenuto Milinkovic-Savic. Tra l'altro Milinkovic con una testa diversa dall'anno scorso, lo si è visto, perché quest'anno è partito in tutt'altro modo. Così come Luisa Alberto, per me la Lazio è la favorita per il quarto posto. Per il quarto posto. Michele, con cosa? Anche secondo me la Lazio sì, proprio perché Milan e Roma hanno qualche incognita di troppo in questo momento, l'Atalanta ha anche l'impegno Champions, è vero che l'Europa League toglie tante energie, però potrebbe essere l'anno buono dopo tanti tentativi per la Lazio, però questa è la griglia di partenza. Poi devono confermarlo sul campo, Milinkovic-Savic si vede che è partito con un'altra testa, Lazzari secondo me è un ottimo acquisto, Correa intanto, a differenza dell'anno scorso si è già confermato, C'è Icedo, Inzaghi che dopo aver riflettuto comunque mi sembra aver sposato adesso appieno quella che è la corsa, il percorso che deve fare la Lazio, quindi è la squadra che è partita meglio e ha una logica, perché ha cambiato meno una struttura, ha i suoi campioni, perché Luisa Alberto e Milinkovic a livello di Serie A di Corsa per il quarto posto non ci sono in altre squadre. Dipende un po' dai gol di Immobile, quello è vero, però Correa-Caicedo in qualche partita se giocano... Correa è forte. Ti piace Correa, Marcello? Forse è il migliore che hanno, per me ha fatto una stagione migliore di Milinkovic e di tutti gli altri. L'anno scorso di sicuro. Poi la testa diversa di Milinkovic-Savic, finalmente ha capito anche lui che nessuna squadra, nessuna squadra in Italia e all'estero è disposta a spendere 120 milioni per lui, perché non li vale. O non può, poter... Ma non li vale, è un giocatore interessante, bello da vedere, aveva fatto due anni fa una bellissima stagione con la Lazio, quando abbiamo tutti cercato la sua conferma, ai mondiali pietoso, vabbè la Serbia non ha fatto un gran campionato, del mondo, si è terminata anche subito, però mondiali che è la vetrina dove tutti si aspettano di vedere i giocatori più importanti, fare qualcosa, lì è mancato completamente. L'anno scorso in campionato, desaparecido, quando è che l'abbiamo visto incidere su delle partite... E poi sulla Lazio ci metto un bel... Sì, in finale con... Un bel punto interrogativo, perché se esiste una squadra indecifrabile pazza è la Lazio, proprio perché quest'anno non è che ha cambiato tantissimo, è quasi la stessa squadra dell'anno scorso, allora com'è che la squadra dell'anno scorso ha fatto quel disastro di campionato, disastro nel senso che noi ci aspettavamo tutti che la Lazio fosse tra le prime quattro, non è stato così, perché ha perso partite incredibili, partite incredibili, e che quest'anno con gli stessi giocatori debba fare un grande campionato, è parita bene, sì, però vediamolo alla distanza, perché io sulla Lazio metto sempre un punto di terreno. Però Marcello, vediamolo in campo intanto. Juve e Inter, se avessero potuto, secondo me Milinkovic-Savic lo prendevano. Sì, ma non a 120 milioni, ma a qualche non gli vale il prezzo, no? 120 no, ma 80 se hai la possibilità. Ma neanche 80. 3-5-2 per la Lazio. C'è anche Johnny, questo giovane interessante che arriva dal Malaga, Vavro dal Copenhague, Lazare appunto dalla spalla, centrocampo molto tecnico, con parolo che in teoria parte dalla panchina, Milinkovic e Luiz Alberto, vicino a Lucas Leiva, insomma, è una squadra fatta e finita ormai, no? Che va tra virgolette solo. È una squadra completa, onestamente affidabile. Affidabile. Anche la testa, mi sembra che abbia fatto anche un salto di qualità nella mentalità. Cioè, con la Roma è andata sotto, è rimasta lucida, ha costruito, ha creato, nel secondo tempo le ha disintegrate, cioè, obiettivamente. La rovina della Lazio negli ultimi anni è stato, anche perché Inzaghi, secondo me, è cresciuto tanto in questi anni, però, non molla mai niente, nelle competizioni, eliminazione diretta, e poi in campionato ad aprile, quando arrivi ai quarti di Coppa Italia, ai quarti di Europa League, qualcosina la paghi, perché la Lazio bastava veramente poco, dopo Inter-Lazio di fine marzo, ha perso delle partite. se avesse fatto alla Sarri come in Napoli, negli ultimi 7-8 anni, in Italia, dopo la Juve, è la squadra che ha vinto di più. quindi non è che abbia fatto delle scelte sbagliate, la Coppa Italia, la Roma non ci arriva mai neanche vicino, Napoli nemmeno, Supercoppa la vinta, cioè, fanno delle scelte, poi sono arrivati comunque, l'anno scorso al novantesimo, al quarto posto, hanno fatto una semifinale devastante, col Salisburgo in Europa League, insomma, non è che si può discutere. No, però dicevo, non è andata in Champions, perché ha avuto questa mentalità poco italiana, di andare avanti il più possibile. Sarà stato per quello, però anche per il rendimento di Milinko, per tanti fattori, però non perché ha scelto di essere competitiva su tutti i fronti, sarebbe un po' riduttivo, la roba per fare Bellerosa, per fare bene, ce l'aveva, infatti ha fatto bene complessivamente, ha fatto meglio di tutte le altre. Allora, rientriamo con il Napoli, dopo di noi 11 e mezzo, ancora due ore passa da vivere assieme tranquilli, andrà in onda Crono GP con Fabiano Vandone, chiaramente ci proietteremo, sul Gran Premio di Monza di domenica prossima, dopo la bella vittoria di Leclerc a Spa in Belgio, promo di Crono GP. Ferrari a setto Monza, tutti i segreti della SF90, per fare il raddoppio a Monza, e quindi cercare di imporsi di nuovo nel Gran Premio d'Italia, pista estremamente veloce, gli elementi tecnici ci sono tutti, il nuovo motore, un'aerodinamica leggera, un telaio che sfrutta al meglio le coperture, condizione tecnica analizzata questa sera, proprio su Crono GP. Due di break, due minuti chiaramente, e torniamo con il Napoli, tra poco. Grazie a tutti. 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 Un mercato quasi perfetto, vediamo se sono d'accordo i nostri ospiti. Partiamo sempre con la prima grafica, non esageriamo, dice Michele Borrelli, adesso ci spiega perché. Chiaramente noi gli spiegheremo perché può essere un mercato quasi perfetto. Manolasse e Lozano sono due colpi che alla lunga fanno vedere il loro valore. Llorente a parametro zero, giocatore seguito non solo dal Napoli, lo mettiamo come un plus. La conferma di tutti i big, partirà Koulibaly, partirà Fabian Ruiz, lo guarderà il Madrid, rimangono tutti. Sogno Icardi sfumato perché il Napoli ci ha creduto e come Icardi. Ames Rodriguez è stato il nome forse più gettonato per il mercato degli azzurri nel corso di questi mesi. I tifosi sono scontenti, lo fanno vedere anche nell'affluenza allo stadio, ma forse l'ha il discorso un po' più ampio e riguarda anche le condizioni del San Paolo. Luca? Beh sì, rimangono dei rimpianti. Dei amare. Soprattutto in Ancelotti perché su Rodriguez e su Icardi qualche cosa intorno ci aveva costruito mentalmente. Però, contrariamente a un anno fa, quando dopo i 91 punti tu ti sei fatto, hai perso Amsic e Giorgini, hai preso solo Ancelotti e hai comprato il Bari, quest'anno se non altro il mercato è stato fatto. Ora, c'è la sfortuna di avere la Juve che è più forte e un Inter devastante, ormai praticamente quasi campione d'Italia e quindi è destinato al terzo posto arismetico. E tu il primo che ride. Al minimo, cioè Massimo, come Massimo, spero che non è il terzo posto. Per il terzo posto mi sembra una squadra ben attrezzata. Spero o no, onestamente auguro una cosa, che faccia un'Europa migliore di quella degli ultimi due. L'anno scorso è stato veramente spostato nel giorno, però poi l'Europa Liga è stato un massacro, per non parlare della Coppa Italia. Ecco, qualche cosa quest'anno Carlo deve portare a casa concretamente, questo a prescindere dal campionato che, come abbiamo detto, è ormai segnato. E non della Juve, dimmi tu. No, no, ho parlato di terzo posto ormai. Stefano, anche una Coppa Italia non sarebbe male riportare la Napoli. Sì, però il Napoli è una grande squadra, io penso che abbia le potenzialità per fare bene ovunque, per fare bene anche in Champions. Penso che, se noi guardiamo la squadra del Napoli, è una squadra completa. La vediamo, la vediamo anche in grado. Eh beh, se tu ci pensi, io credo che, ora parliamo dopo due giornate di campionato, quindi se uno dice Manolas Koulibaly è forse una delle coppie più forti del mondo, dice ma tu sei matto, hanno preso sette gol in 180 minuti. Però continuo a pensare che sia così. Mi sembra una squadra che non ha lacune, ha molte alternative anche importanti, perché comunque gli Orenti stiamo parlando di uno che ha appena giocato la finale di Champions, non titolare, però è un'alternativa di lusso. Il gol decisivo l'ha fatto lui. Esatto, il gol decisivo, quindi è un'alternativa di lusso. Lozano, giustamente tu lo metti tra parentesi, però stiamo parlando dell'acquisto più costoso nell'era dell'Orentis, è un giocatore... Forse anche della storia del Napoli, perché 42 anni... Della storia del Napoli. Sì, che può diventare straordinario, è una squadra completa. Poi per carità, con Icardi, sì, certamente con Icardi avrebbe avuto qualcosa in più, è anche vero che lì, se entra Icardi, esce Milik. Certo, ma infatti Icardi per il Napoli era un'opportunità. Era un'opportunità, l'arricchimento ci sarebbe stato, però se... È vero, è vero, però Milik è un... a mio avviso, è del 94, ha le potenzialità del grande attaccante, gioca anche per la squadra, se arriva l'anno che anziché fare i suoi 20 gol ne fa 30, io credo che poi diventi... perché ha le potenzialità per farli, a mio avviso poi... Anche secondo me Milik è un po' sottovalutato, poi alla fine credo che Ancelotti giocherà con il centrocampista, come almeno ha fatto nelle prime due giornate. Fabio Ruiz, dove adesso c'è... Vabbè, ma queste sono formazioni da ferma, gli edifici sono tantissimi, no? Sì, sì, no. Lui c'è Zilischi accanto ad Allan, Fabio Ruiz, certo. O Zilischi o Fabio Ruiz. Puoi metterli un po' come vuoi. Anche perché Elmas, già ha fatto vedere di essere anche lui un buon acquisto, così come di Lorenzo. Vedendo le prime partite del Napoli mi è venuto un dubbio, non perché può succedere, magari affronti la Juve, partite con tanti gol a Fiorentina. Però non c'è il regista e va bene. Però anche in difesa, non è che Manolas Koulibaly sono forti singolarmente, ma non proprio complementari. Cioè, chi imposta il gioco tra Manolas Koulibaly, Fabian Ruiz e Allan? Sono tutti forti singolarmente, ma non sono sicuro che saranno armonici per una squadra, che poi tra l'altro è vero, è completa. Ames Rodriguez, per esempio, parlavamo prima della strategia della Roma, se fosse stato un altro tipo di mentalità dell'Aurentis, forse avrebbe potuto fare il passo adesso, magari con un obbligo di riscatto. Ames, ti rinforzavi sicuramente. Per il Napoli io prendevo Ames o Luzzano, siamo sicuri che Ames sarebbe stato meglio? No, no, tutti e due, dico io. A tutti e due? Tutti e due, magari con una modalità di pagamento, con un po' di traffico, togliendo IUNES o togliendo... Eh, ho capito, ma... Però poi tieni conto che se tu qui togli Mertens e lo togli per dare più equilibrio alla squadra... Certo. Quindi tu hai fuori Lozano, Llorente, Mertens e IUNES. Eh. Cioè tu hai tre giocatori offensivi, diciamo ipoteticamente Cagliaonno e Milica Insigne, e fuori hai questi quattro. Cioè se aggiungi anche Ames qualcuno deve saltare. Non a caso l'anno scorso hanno preso un allenatore che queste rose le gestisce da vent'anni, senza aver fatto il mercato un anno fa. Quest'anno hanno fatto il mercato in un colpo quello che avrebbero dovuto dividere in due stagioni e adesso sono affari di Ancelotti che deve ridimostrare di avere la capacità come nessuno. Per vent'anni, quindici anni, non c'è stato nessuno in Europa che ha gestito le tre partite in una settimana come non c'è l'opera. Certo. O comunque... Per la prima volta sono... Ah, velocissimo, sono d'accordo con Luca sul Napoli. Per la prima volta sei d'accordo con Luca? Sul Napoli, perché ci siamo scontrati per un anno sulla mentalità dei Laurentiis, eccetera. Cioè qui in questo caso con Ames Rodríguez fa il passo leggermente più lungo della gamba, poi puoi vendere l'anno prossimo qualcuno che magari fa il sacrificio dopo. Però la piazza che oggi vuole il colpo, Napoli, ha bisogno veramente di una scintilla per infiammarsi. Se lì metti Ames Rodríguez, trequartista, è proprio l'uomo giusto al posto giù. Non prendi gli Orenti. Mertens fa il vice milic che giochi diversamente, hai Lozano, hai una squadra veramente fortissima. È mancata forse veramente la ciliegina sulla torta che... Secondo te è mancata la ciliegina? Ci sta. No, ma sono d'accordo. Concordi? Prima o poi c'è anche De Laurentiis, il salto di qualità di una squadra che ormai stabilmente in Champions League, che comunque... Più stabilmente della Juve. Cioè ogni tanto un top player lo devi prendere. Cioè volevi Ames Rodríguez, sì, si è andato su Lozano, che sicuramente sarà un ottimo giocatore, ha fatto anche gol contro la Juve, ha fatto uno splendido gol, una bella azione, quindi non metto in discussione Lozano. Però Ames Rodríguez è un altro tipo di giocatore, era un top, ci stava bene lì dentro. Volevi Icardi? Oh, io conosco Fernando Llorente benissimo, quindi secondo me è un giocatore di assoluta affidabilità, però Icardi è una cosa, Llorente con la sua età è un'altra. È sempre un ripiego, quindi è giusto che i tifosi ogni tanto, anche a Napoli, possano avere, come i tempi in cui prendevano Savoldi, Maradona, Maradona è stato... Ha provato Pompepe a un certo punto, 80 milioni, però poi non si sono messi da accordi, ma anche Pepe. No, per dire che il colpo lo volevano fare. Però non lo fa mai, non lo fa mai. Poi per quanto riguarda la squadra, io ripeto, la squadra questa qui lotterà per tutti i tre obiettivi fino all'ultimo. Temi più il Napoli o l'Inter? Beh, l'Inter. Inter e Napoli alla pari. Ma no, dai, l'Inter. Però devo dirti una verità, io l'altra sera quando ho visto la partita, quando giocavamo con il Napoli di Sarri, era una storia. Il Napoli di Ancelotti, un'altra, e francamente per 67 minuti, poi dopo sono scomparsi e loro sono venuti fuori. Non c'è stata partita, ce l'abbiamo massacrata. Poi dopo è successo di tutto e di più e loro hanno fatto il 3-3, per carità. Tant'è che Ancelotti era scontenta a fine partita. Perché effettivamente la squadra è scomparsa, cosa che non capitava mai con Sarri. Noi giocavamo con il Napoli di Sarri, oh, questi erano sempre in partita. Sempre, sempre. Che dava un'altra impressione il Napoli di Sarri. Potrebbe essere la mina vagante in Champions il Napoli, conoscendo Ancelotti che è uno che magari nella continuità... Liverpool-Salisburgo? Vabbè, dai, i primi due passano sicuri. Cioè non c'è paragone. Il Genk, cos'è? Il Genk. Il Genk è il Sarri. Il Napoli è un buon girone per andare fuori, per quasi farla apposta. Sì, devi farla apposta. No, e poi il Napoli è una squadra che se la gioca con tutti. Cioè io, l'anno scorso è arrivato in finale di Champions il Tottenham, che ha eliminato l'Inter perché l'Inter si è auto-eliminata combattendo il PSV. Milica-Liverpool? Milica-Liverpool. Il 93. Ha vinto la Champions. Da Belgrado e Napoli. Per cui, insomma, io credo che in Champions è chiaro che il Napoli è pericolosa per tutti. In campionato devono trovare subito l'assetto giusto e il giusto equilibrio perché effettivamente in queste due partite l'aspetto che ha colpito... Perché Stefano, è vero criticare la Juventus per i tre gol presi contro il Napoli, perché va criticata la fase difensiva sulle palle in attiva. Però una squadra come il Napoli, che deve rottare per lo Scudetto, che prende sette gol in due partite, non è roba da poco, eh. Ma infatti anche perché i gol che ha preso sono nati proprio da errori difensivi, alcuni di mentalità, perché il gol quello di Danilo non lo puoi prendere proprio. Se lo prende una squadra, penso, in terza categoria, l'allenatore chiude le porte dello spogliatore e non fa uscire nessuno, perché non è possibile. Comunque il gol lì su calcio d'angolo... Ripartenza. Anche Coulibaly su Higuain sono cose che a Coulibaly... A Coulibaly non può farsi segnare un gol. Per quanto bellissimo il gol di Higuain, un gol bello così, con tutto il rispetto, lo fa a una squadra di bassa classifica, non al difensore. Come ha detto Ancelotti a fine partita, non si può essere uno marca zona, ma non molli. Cioè è una partita fondamentale, erano sempre un po' distanti, un po' superficiali. E no. Questo errore del singolo o è la mentalità che non riesce a instillare l'allenatore? Beh, no, a criticare Ancelotti secondo me. Lo so l'ha fatto vedere, insomma, quello che deve fare... Vorrei dire che ha preso praticamente cinque titolari potenziali. Devi ancora sistemare alcune cose e sei passato nel giro di 13 mesi dal raduno dell'anno scorso, quello di quest'anno, ha due mentalità, due gestioni completamente diverse e ci sta che dopo 180 minuti ci siano ancora dei meccanismi da perfezionare. Questo è sicuro. Specie perché ci sono dei giocatori, soprattutto quelli chiave, che ho visto sia a Firenze che a Torino. Parliarruizza è molto indietro. In massissima condizione, in scarsa condizione. Quindi andrei un attimo piano con le stroncature definitive. Secondo me questa è una squadra che farà una grande stagione. Però io non sono convinto che Manolas sia il grande acquisto per rinforzarli. Cioè, perché noi abbiamo presente il Manolas... Noi andiamo a esaminare la carriera complessiva di Manolas, è chiaro che Manolas ha fatto vedere delle belle cose anche alla Roma, no? Il problema è che Manolas, io mi sono reso conto già l'anno scorso, che era un pochettino in fase calante. Quest'anno, ripeto, partiamo, Manolas, Coulibaly, la coppia delle meraviglie, sette gol. Non so se hanno fatto il grande acquisto con Manolas. Era difficile trovare un difensore più forte di Manolas su un mercato. No, che sia forte. Perché la Juve c'era, l'avamo lato. Perché poi hanno costretto la tua Roma a sopravvalutare Diavara, che penso 20 milioni per Diavara, penso non li avrebbe pagati neanche, non lo so chi. Ma però è vero quello che diceva Marcello sulla grande differenza, che è passato un anno, non un'era, e il Napoli ha sempre in signe Calejone e Mertens, che non hanno disimparato a fare quel movimento. No, anzi, si è visto, no? Però il Napoli è un'altra storia. Oggi il Napoli è una squadra che magari a Firenze sta subendo, però arriva a un certo punto e ti fa l'1-2. Trova la soluzione. Invece prima con Sarri tu hai l'acceleratore a tavoletta, magari la Juventus ti fa 60 minuti, poi non sono al 100% il cano. Però Sarri è quello che, pronti via, si va. Sì, sì, due modi di scendere in campo. Due modi di vero. Questo dire il Napoli potrebbe essere una mina vagante in Champions League. Due minuti di break e ritorniamo con le parole di Zvane Boban e quindi con il mercato del Milan. A tra poco. Grazie. 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 Eccoci qua. Allora, soddisfatto Zvane Mir Boban del mercato del Milan, ne ha parlato diffusamente in nottata. Partiamo dal suo primo stralcio, dove parla appunto della campagna acquisti dei rossoneri e dell'acquisto di Ante Rebic, finalizzato proprio ieri. Il Milan è una grande società e non può vivacchiare a metà classifica, dice Boban. Puntiamo sui giovani per filosofia aziendale, ma ogni tanto serve qualche elemento di esperienza in più. Noi siamo convinti che i nostri acquisti saranno il futuro del club. Un giocatore da 100 milioni da solo non ti cambia la squadra. E poi su Rebic dice che un giocatore con tanto carattere e tanta forza sa ricoprire diversi ruoli, può giocare anche nelle due punte, si può usare in molte posizioni. È un ragazzo serio, cresciuto anche tecnicamente. Siamo felici che sia con noi. Fino a ieri mattina, Luca, non si aveva manco certezza che il Milan arrivasse a un giocatore da insire in incidente. Poi arriva Torebic. Non c'è stata nessuna certezza da Piontek in poi. Io non ho letto da nessuna parte in anticipo che il Milan aveva chiuso Piontek a gennaio, poi Rodriguez, poi, scusa, Hernandez, poi Benazere, Kronice, poi tutti gli acquisti si sono sbocciati nelle ultime 24 ore a giochi praticamente fatti. E questo, Stefano, può avallare, non è che crea grandissime simpatie negli operatori perché non hanno confidenti, non aprono la bocca, fanno le loro cose. Però se uno esamina lo scenario, una cosa va detta. Di ogni scelta c'era il piano A, B e C. A, B e C che non vuol dire necessariamente che tu hai preso il C di tutti perché tu avevi Torreira, avevi Veretù, avevi Praet, secondo me Benazere è meglio di tutti e quattro, forse se la gioca con Torreira in prospettiva, però sono questioni personali. Ma in ogni caso c'erano quattro nomi e uno arrivato. Poi c'era Hernandez, no, è stato un colpo subito perché Terzino vuole uno che spinga, che vada un attimo più scavezzacollo di Rottiglietti. Poi c'era il giocatore dello Stoccarda che ha detto di no, no? C'era il giocatore dello Stoccarda, c'era stato Lovren, che questa era una prima scelta anche per la Roma, e alla fine arriva questo Duarte, c'è Caldara che deve recuperare, intanto ha un continuo giocatore. L'attaccante, ci sono fatti mille nomi, poi da un mese e mezzo Correa, l'improvviso, anche Leao è sbucciato fuori e adesso Remic. Sicuramente è una scommessa, nessuno può dire nulla del Milan. Io posso solo dire che esaminando lo scelale di quello che è accaduto, certamente tutto è stato concertato con l'allenatore. Su questo non vi sono dubbi. A partire dal Terzino sinistro, a Ternandes, in poi tutto è stato concordato con Giampaolo, che ha in testa una certa cosa. La formazione di domenica in una certa direzione va anche a favore di questa tesi, che non è stata un'esposizione ludica di mercato di Andre Silva, perché sarebbe offensivo per Giampaolo, per Maldini e Vovane, forse anche per Andre Silva, ma era proprio il tentativo di cercare di trovare il bandolo di una matazza che evidentemente durante le amichevoli estive, Piontek in particolare, Pacchettagliati, non avevano assimilato. Ma oggi come oggi io non posso dire nulla del Milan. Posso semplicemente dire una cosa e ho concluso. La squadra è stata terza tre volte nei 90 minuti dello scorso campionato e contrariamente anche qui a tutte le previsioni, Donnarumma è rimasto, Suso è rimasto, Romagnoli è rimasto, sono rimasti tutti. La squadra titolare dell'anno scorso c'è e in più tu hai occupato alcune caselle, Bertolacci, Montolivo, Zapate, con dei giocatori che in prospettiva sono migliori. Quindi ipoteticamente, sicuramente rispetto ai centrocampisti che avevi, c'è giocato Calabria a un certo punto, il centrocampo l'anno scorso, sei migliorato, non ci sono dubbi. Hai preso uno che ha fatto cinque gol e otto assist nell'Empoli allo scorso, Kurtic, hai preso Benassere. Dopodiché però devi assemblarli e devi sperare che Giampaolo sia il top player su cui certamente la società ha puntato. Punto. Questa è la chiave. Ci vogliono, come dice Giampaolo, io l'ho detto sabato, lei parla di tempo e parla di alleato, parla di pazienza. Il tempo e la pazienza possono diventare anche i peggiori dimensi, perché qui, caro Giampaolo, la pazienza e il tempo sono finiti da sette anni. Però è un fatto che Boban e Maldini, la società, Giampaolo devono difenderlo, sostenerlo, proteggerlo, blindarlo e andare avanti fino alla fine. E credo lo faranno. Anche a costo di mandare pacchettare Piontech in banchino, nel secondo giornale del campionato, se quella è la strada che deve seguire. Questo è il discorso. Chi può dire che arriva sicuramente ottavo, sicuramente non le prime quattro? Era terzo nell'ultimo giorno. Però il fatto di non avere sicurezze è già una risposta da qualcuno. Noi non le abbiamo. Evidentemente loro le hanno, perché come ti ho detto, intanto c'è un altro fatto che Stefano forse può spiegare meglio. Il Milan da pacchettare in poi paga cash in un'unica soluzione. Quindi evidentemente che ci sia anche una strada maestra. Tu ci credi in certi giocatori. Fai dei contratti lunghi. Contratti quasi lunghi. Io credo in quennale. Anche rispetto al fare il play finanziario, però un progetto tecnico c'è. Io non ho dubbi che su Correa, che non hanno preso, su Rebic piuttosto che su Leal, ci credono molto. Perché se no non ci avrebbero preso. Evidentemente è un po' più di vero. Io francamente ho ascoltato Luca, ma non mi ha convinto. Non mi ha convinto quanto ha detto che Giampaolo ha le idee chiare. Perché Giampaolo mi sembra che abbia tutto. Non l'ho detto. L'unica cosa che non ho detto. No, hai detto il top player che ha le idee. Hanno preso i giocatori per lui. La società ha fatto una scelta precisa sull'allenatore considerando il top player. Che ha delle idee. Io non ho detto se sono giusti o no. Ha delle idee precise. Delle idee precise. A me francamente sembra che abbia... Lo confermo. A me francamente sembra che abbia tutto o meno che le idee precise. Tant'è vero che dopo la prima partita già ha pensato di cambiare modulo. A me questo è un po' inquieta. Perché se tu tutta l'estate... È una cosa di coraggio. Sarri ha fatto la stessa cosa. Prima non ha parlato. Sì, però tutta l'estate tu provi un modulo. Poi ti rendi... Quanto ha fatto il primario che vuole ha fatto. Sì, ti rendi conto. Però immagino, visto che credo che Giampaolo sia un allenatore molto serio, certamente l'ha provato anche durante tutti gli allenamenti. Per mesi hai provato una cosa e poi ti è bastato perdere una partita e ne fai un'altra. No, ti è bastato giocarla in maniera ignobile. Ho capito, però se ti basta giocare una partita in maniera ignobile per cambiare modulo, un modulo che hai provato per due mesi... C'era quella di Cesena prima e c'era quella di Pristina prima. Cioè le ultime... A parte le prime tre, guarda caso, con Manchester, Bayern e Benfica, squadre indietro alla preparazione, con alcune riserve e che giocano aperte. Dopo da Pristina in poi, Cesena e Udine, il Milan ha fatto due tiri in porte in tre partite. Non è stata solo Udine che lo ha portato a fare dei cambi. A un certo punto ho detto, Piontek non sta bene, sta meglio Andrè Silva. E in effetti fisicamente si vedeva. Ecco, io invece anche su quello, però quello ci arrivo dopo perché quello è un particolare, però secondo me io non sono assolutamente d'accordo con te nemmeno su quello. Cioè te lo anticipo, per me Andrè Silva è stato fatto giocare a trattativa con l'Eintracht cominciata, già avviata, per far vedere all'Eintracht che Andrè Silva era un giocatore integro. Perché questo non lo diranno mai, ma loro erano terrorizzati dal fatto che l'Eintracht non bocciasse alle visite mediche, come era successo col Monaco. Ora onestamente se io avvio una trattativa che non dipende da questo con una società, l'ultima cosa che faccio è metterlo in campo. Se lo metto in campo per 70 minuti è per dirti, guarda caro Eintracht, questo è un giocatore integro, che certamente è vero perché ha giocato 70 minuti correndo, come giustamente dici, però io non posso pensare che quella sia stata una scelta tecnica. E ti dirò che a mio avviso anche a Piontech sarà stato spiegato che il club aveva necessità di togliersi di mezzo uno che da due anni non sapevano a chi darlo e lo hanno fatto giocare, immagino, per far vedere all'Eintracht che era in grado di correre per 70 minuti. Infatti il Monaco non l'ha preso e l'Eintracht l'ha preso. Presto biennale vuol dire che quando lo riprendi, poi se lo vendi a 8 milioni, hai fatto pari e non hai fatto minus valenze. Quando torna Andre Silva tra due anni, ha un anno di contratto, è stato pagato 36, devi ammortizzare 4 milioni e mezzo, a quel punto lì l'operazione l'hai conclusa senza perdite. Il Milan aveva necessità di liberarsi di questo giocatore. A prescindere è stata una buona cosa, a prescindere che venga riscattato o meno. Io francamente, da quando c'è stata la presentazione di Giampaolo, che ascolto Boban e Giampaolo soprattutto, Meno Maldini, i quali raccontano che il Milan non può stare a metà classifica perché è il Milan. Però sono i calciatori che tu mandi in campo che determinano la posizione che hai in classifica. Non la maglia che hai, le Champions che hai giustamente nel museo e di cui sei orgoglioso, né il numero dei tifosi che sono tantissimi e molto appassionati, visto che giustamente l'amore che hanno per il Milan riempiono sempre Sanzio. Ma se tu vuoi ottenere dei risultati con tutto il rispetto, io credo che tu abbia necessità di fare un mercato differente e di avere una squadra differente. Questa è la mia idea, poi magari mi sbaglio. Io però, Marcello, sono completamente d'accordo. Ecco, sono completamente d'accordo. E sappiamo che... Magari adesso Luca si arrabbia, ma io francamente che... Mi arrabbio per tutti. Un allenatore top player lo apprendo da te stasera. Cioè per me è un allenatore bravo, serio, maestro di calcio, ma finora è sempre stato un allenatore da settimo, ottavo posto. Il top player, me lo dici tu stasera, magari sarà così, che ne so. Perché magari mi sono spiegato male. Non hai detto top player, hai detto che la società lo ritiene tale. Cioè il Milan deve sperare che Giampaolo sia l'allenatore. Non è che deve sperare, il Milan ci crede. Crede che lo sia. Poi può aver sbagliato, no, ma ci crede molto. Infatti la società Milan ha considerato, ma questo si è potuto dire ieri sera alle 22, a mercato finito, il top player del Milan, la società lo ha individuato nel suo allenatore. Perché crede che questo suo allenatore, questi ragazzi 20 anni, 21, 19, 22, li saprà far crescere e portarli a un determinato livello. Avendo in mano, però, continuerei a sottolinearlo questo aspetto, la stessa identica rosa che è stata quarta per quattro mesi nella scorsa stagione e che negli ultimi 90 minuti è stata terza tre volte. Quindi non è che parte proprio con lo scempio e la Pompei con cui si è partiti tre anni fa la Stato. Infatti io ho visto la linea quando ha parlato anche lo stesso Gazzidis che ha fatto riferimento all'anno prossimo quando il Milan tornerà in Europa, poi bisogna sedersi al tavolo per il famoso discorso del prefinanziario. Io ho capito la linea. Cioè nel senso tu vai sui giovani, perché se prendi un maestro che sai insegnare calcio e i giovani ti crescono tutti, puoi intraprendere quel percorso. Però sono d'accordo con Stefano, cioè capendo la linea non condivido che sia la strada più breve. Cioè il Milan, proprio perché l'anno prossimo si dovrà sedere al tavolo, al posto di prendere, non so, Hernandez primo acquisto aveva tre terzini sinistri. Come? Sicuro? E se vai in Europa, quindi dicevo prima cosa, il terzino sinistro mi è sembrato un po' strano, però vabbè, dice quella è l'occasione, lo prendo, però poi ha dovuto recidere il contratto con Strinic, prendere l'Axat, prendere 20 milioni, e sono già 20 milioni. È un'occasione costruzione. Cioè parti dal terzino sinistro, poi hai preso, non so, adesso Rebic, va benissimo Rebic, però perché una trentina di milioni sulle AO? Cioè in questo... Poi anche il fatto che vada così bene Rebic, io non è che sono così sicuro. No, ma per dire, io tra le AO e Rebic i soldi li metto su Rebic, tra i due, cioè perché oggi devo arrivare quarto. Se io sono in Milan, onestamente... Io devo arrivare quarto. Rebic gioca, le AO c'ho Piontek. Io magari sbaglio, ma non prendo né le AO né il Rebic. Vabbè, questo meglio anche nel senso sinistro. Non prendo anche Benassert. Nelle anni... Presente? Presente Gerard... No, Gerard, no, ma 30 milioni... Ma fate dei nomi? Quello che ti voglio dire... Allora prendo Benassert. No, quello che ti voglio dire è che il Milan... Aspetta, te lo dico. Il Milan ha trattato... Ripartiamo da qua. Ripartiamo da qua, perché ci dobbiamo fermare la Samerità. No, riprendiamo... Chi prendete se non le AO? No, ma che il 2 milan è un cazzo... Siamo qua fermi, immobili. Grazie. 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 Eccoci qua, ben ritrovati. Allora, stavo dicendo che... Mi siedo, mi siedo... Scusami Alfredo. Mi hai distratto durante la pausa perché così non mi ci hai fatto pensare. Allora, Rebice le AO, no? No, no, tu mi hai distratto. No, 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 no. Il vituperato Mirabelli. Aspetta, anch'io. Ma ti do un assist, guarda. Il vituperato Mirabelli ha messo in piedi un circo dove all'inizio della terza stagione Rodriguez, Conti e Caldara, poveretti dovranno andare a Lourdes, come si chiama, Ciaranoglu in particolare, Andrea e Silva, sono ancora in campo tutti e tre. Che erano i tre titolari tre anni fa, due anni dopo, cioè sempre considerando che non hai mai... Che sì, paravo. Me ne mancavo. Che Conti e Caldara tutti, ma non ci sono mai stati, eccetera, quindi. Da quelli lì, questi sono giocatori che si sono giocati il terzo, non il quarto posto, fino agli ultimi 90 minuti dell'anno scorso. Oggi bocciare immediatamente Benasser, Hernandez, Leal... No, no, bocciare no! Rebice, c'è un giocatore che ha un curriculum negli ultimi due anni, là in Tachio, non chiedete niente perché, ma in Germania è la mia squadra, e da tre anni sta diputando le sue migliori... Ma Conte lo voleva l'Inter, Michele confermerà. Sì, le migliori stagioni della sua storia, perché non è quella che poi va spesso in... Lui era una stella... Titolare in finale di Coppa del Mondo? Sì, era la stella, era la stella. Infatti, quando l'Inter... La stella, insomma, e lui non c'è, mancherà la stella Rebic. Infatti Jovic è andato... L'Inter segue la stella della Eintracht. No, la stella è Jovic che infatti è andato a Real Madrid per 60 milioni di euro. E Rebic invece è venuto... E allora 50 anche, è andato via. E invece Rebic è venuto al Milan in uno scambio di prestiti con... Erano le due stelle, Stefano. No, io dico semplicemente questo, che dopo un'estate nella quale il Milan, a mio avviso, per motivi assolutamente inspiegabili, ha inseguito il buon Correa, offrendo 40 milioni di euro per Correa e ti giuro che 40 milioni di euro per Correa sono una cosa che ancora mi domando... Il Correa della Lazio è più forte. Il Correa della Lazio è nettamente più forte. Soprattutto ha fatto vedere in Italia di poter essere un giocatore cosa che il Correa dell'Atletico Madrid e qui per fortuna del Milan a mio avviso l'Atletico non ha abbassato la valutazione, non ha mai dimostrato in Europa. Io dico che anziché offrire 40 milioni all'Atletico Madrid per un mese e mezzo per Correa e sentirmi dire pure di no, io sarei andato semplicemente dall'Udinese con 30 e mi avrebbero dato Depol. Io penso che... Hai detto Garrincia. No, non ho detto Garrincia ma ho detto un giocatore affidabile che in Italia può giocare... Per fortuna il Milan ha letto 35 più 5, 35 più 5 sono 40 e non si è più spostato da lì. Sì, 40 milioni però... Lo valutavo questo al di lì. 40 milioni per Correa per me sono esplicabili. Il Milan poi quest'anno non fa le coppe quindi poteva sfruttare anziché avere i due giocatori per ruolo. Non so, forse aveva programmato che Cassi poteva essere un introito. Suso poteva essere un introito sul mercato e quindi si è trovata col doppio ruolo come se dovesse fare le coppe. Tutti li ha programmati. Ha programmato Donnarumma, Suso... Sono rimasti tutti quanti. O sono pazzi... No, però dico dopo intanto in quei ruoli hai doppioni come se dovesse fare le coppe. Ma c'è un allenatore nuovo che ha delle idee nuove e questi si sono mossi in una certa direzione. No, no, ma questo lo capito. Però per questo dicevo ci poteva essere un piano alternativo di prenderne magari qualcuno di meno però uno che facesse un po' di più la differenza. Non so, per esempio... Allora, vediamo Michele, questa grafica ti vi rincontro. Allora... Allora, la Juventus che ha degli esuberi è vero che hanno degli ingaggi un po' più alti però tu risparmi... Emre Can è stato associato al Barciona a Bayer Monaco non credo avrebbe accettato per esempio il Milan. È vero. Poche disponibilità economiche ma buoni acquisti. Benasser lo mettiamo... Questa qua è un'altra roba sbagliata perché quando direi gli assegni accettano tutto. Non è vero. No, certo. Non è vero. Non è vero. L'Arsenal... Perché tutti caccherano. L'Arsenal non vince niente. Da vent'à niente. Ha vinto due coppette in legge. La politica di... Non vince nulla. Ma se chiama l'Arsenal ci vanno tutti. Basta che gli dai l'assegno. Il Milan Emre Can se i milioni non gliele voleva dare. Non lo so se gliele voleva dare. No, parliamo stasera per la prima volta del Milan Emre Can. No, dico che gli esuberi della Juve probabilmente non erano alla portata. No, ho capito. Però cercare di smuovere qualche giocatore... Ma non ce l'hanno neanche chiesto. Non ce l'hanno neanche chiesto. No, ma perché la politica è andare sul giovane perché devi programmare a lungo termine. Invece la cosa che fa svoltare il Milan nei prossimi anni sì, può essere quella il lavoro, il maestro di calcio l'allenatore che fa che... Ma può essere anche vado adesso in Champions. Può essere anche che prendi i guine ed è un... Vediamo solo la grafica. Ma se il maestro di calcio insegna dei giocatori scarsi e i giocatori possono un po' migliorare ma non vincono la Champions League. Quello è sicuro. Capacità di scendere gli esuberi. Nessun top player per il Milan e poi in chiusura il mancato arrivo di un trequartista. Se tanto ha parlato del 4-3-1-2 di Giampaolo il 10 il trequartista non arriva. Il primo punto poche disponibilità a buoni acquisti. Ma Capacità non può fare trequartista. Detto da Luca prima vediamo un attimo che se sono dei buoni acquisti. Cioè è tutto da verificare. Certo. Beh, sai di questa squadra noi pensavamo che Bonucci e Iguain fossero due che spaccavano il mondo le due più grandi pippe che abbiamo avuto negli ultimi due anni sono stati loro due. Dipende un po' anche dai giocatori. Esatto. L'Inter secondo il tempo empiricamente ha venduto i suoi tre migliori giocatori però non è preso degli altri. Io non lo so. Io sono sicuro che Benasser diventa un grande giocatore perché è anche la testa. Gli altri li conosco di meno. Mi fido molto del fatto che abbiano insistito molto per certi profili di giocatori piuttosto che altri se sarà un flop senza. Però le poche disponibilità la disponibilità è quanto ho speso? 180 milioni cash da gennaio in poi. Se ci metti in pacchettà salgono ancora di più. Evidentemente è stata fatta una linea una scommessa. Ci credono. Se poi sbagliano lo dice il campo su questo io non lo posso dire però vorrei far riflettere su una cosa. Ripeto è rimasta una rosa una rosa che ha lottato per il terzo e quarto posto per tutta la stagione dell'anno scorso e in più liberati perché questo è il mercato del Milan Giusemauri Montolivo Bertolazzi sono arrivati i cruni ci è arrivato Benasera è arrivato questo e quello quindi in un attacco che ha avuto tutta la stagione prima un attacco a panni argentino nevrastenico poi Pionte e Cutrone che non gioca nel Wolverhampton adesso ne hai quattro di arrivati a tutti scarsi meno segnato no perché l'altro giorno ha segnato Zappatano Genoa mi sembra che sia numericamente e un po' qualitativamente migliorata non avendo le coppe che hanno creato un fumo negli occhi pazzesco perché quelli che sono andati via non riuscivano a battere neanche il Doodland a me sembra che complessivamente sia un po' migliorata prima di affossarla all'ottavo posto ci pensare un attimo basta quindi migliorare la vuol dire che è in Champions ho detto tutto fino adesso non è che vada avanti ho detto io la mia formica tra il decimo sì è migliorata è una cosa che ha lottato scusa ha lottato o no per il terzo e quarto posto tutta la stagione un punto sì ha ceduto qualcuno dei suoi giocatori migliori no ne ha presi altri al posto di ectoplasmi però ha cambiato filosofia anche di gioco esattamente in linea di massa è migliorato poi se arriva al dodicesimo non lo so magari la Lazio fa venti punti in più ma tu su Gattuso Luca non hai nessun tipo di diciamo di retropensiero di rimpianto di non so perché magari tu parti da una certezza in più invece così veramente stai no io l'unico rimpianto che ho di che per Gattuso è personale perché io so per certo che con una disponibilità diversa di giocatori avrebbe voluto fare degli altri tentativi ecco lui per esempio era uno di quelli che aveva detto io vorrei due giocatori di un certo livello anziché prenderne tanti complementari però io stavo dicendo un'altra cosa che al di là di fare ti ti toc ti ti toc dietro perché non avevi biglia perché non avevi guaino non avevi buonaventura non avevi conti non aveva questo si era attato a fare una certa cosa che cosa avrebbe potuto fare con una rosa migliore non lo so questo onestamente lo so però lui per esempio era uno di quelli che aveva essere terzo tre volte parlavo di Gattuso perché era uno di quelli che pensava quello che dicevo io prima c'è le due strade i giovani complementari oppure prendiamone i due per fare il salto la società a partire da Gazzidis ha dato un'altra linea da quella che era diciamo la strada di miglioramento di Gattuso che era anche quella di Leonardo che era anche quella di Leonardo sono andati via entrambi però sai se tu trovi un modo per chiudere il discorso per esempio Modric che sia che ne so l'ingaggio spalmato ripartiamo da Modric sì perché l'unico top player che è stato in orbita ma chi l'ha detto ma chi te l'ha detto ma non viene uno che starà al Madrid ma uno che starà al Madrid intanto c'è una ragione fiscale che fa venire a parte che a Madrid come sai non è che starà ma al Milan ma uno ma uno che gioca ma figurati se viene sbagliate sempre perché se no uno con questo sistema all'arsenal non c'è io che non vince niente da venire sì ma uno come Modric che appena ha vinto la Champions sono da due anni ha vinto e tre che ha giocato pallone d'oro che vince però Luca scusami c'è venuto Iguain c'è venuto Bonucci perché non dovrebbe venirci Modric infatti Bonucci e Iguain se ne sono scappati il primo club con cui ha parlato Cristiano Ronaldo due anni fa è stato il Milan si è seduto hanno parato hanno parato anche a lungo e il secondo è stato sì però poi Fassone ha detto no ho fermato Yongong Li no lascia perdere Fassone non è stato Fassone c'è anche ADL diceva che l'ha dovuto fermare ma chi l'ha fermato Fassone l'ha detto ma chi l'ha fermato come chi l'ha fermato Fassone ha fermato Yongong Li era un po' come quando c'è Chigori voleva prendere Fassone ha fermato Yongong Li cioè ha fermato un postino che stava portando una raccomandata Berlusconi ha detto no scusate Berlusconi mi ha sistemato i miei affari e non me ne frega niente io andavo per via che vada a Napoli o che vada alla Juve allora guarda Marcello ripartiamo con le parole di Boban su Modric così vediamo se le sue parole ci aiutano a fare un po' luce su questa trattativa qualora ci fosse mai stata a tra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti tra poco andiamo in redazione dal nostro Jacopo Giavenni così ci aiuta un po' a far luce sulle trattative del Milan che non si sono concretizzate partendo forse da questa con Modric ammesso che ci sia mai stata una trattativa Boban dice Luca è un grande milanista un giocatore straordinario ma era praticamente impossibile non siamo mai arrivate le cose concrete lui non voleva lasciare il Real dopo una stagione brutta poi su Correa invece non abbiamo trovato le condizioni economiche Jacopo parto da te per capire se Boban ha davvero accarezzato l'idea di portare Luca Modric al Milan oppure no ma allora diciamo che ci sono stati spesso dei colloqui con la gente di Modric Vlado Lemic ma sappiamo benissimo che lega a Vlado Lemic una stretta amicizia con Zvonimir Boban e quindi possono aver parlato anzi sicuramente hanno parlato anche di altri giocatori seguiti dalla gente croato diciamo che un po' l'effetto mediatico dei tanti like sui social che Modric sistematicamente concedeva alle pagine del Milan hanno fatto un po' fantasticare anche i tifosi però sappiamo benissimo come le condizioni economiche attuali parlo ovviamente dell'ingaggio di Modric che è di 12 milioni di euro non potessero così essere associate ai parametri del Milan però insomma queste dichiarazioni di Boban fanno capire quanto il brand Milan abbia ancora valore nonostante poi gli ultimi risultati sportivi del club e secondo come magari i rapporti personali di un dirigente con alcuni giocatori con alcuni procuratori possa essere importante non lo è stato magari in questo caso può esserlo nei prossimi anni lo è stato magari nel caso di Rebic con il direttore sportivo dell'Eintracht con nazionale di Zvonio Nirboban insomma sono tante le sfumature che si possono ricavare da queste trattative sicuramente la trattativa Modric è stata un po' la trattativa mediatica dell'estate ma nulla di più non è mai nata ecco diciamo su Correa invece la trattativa c'è stata e come no? su Correa c'è stata e come il Milan puntava forte su questo giocatore che tatticamente lo possiamo collocare come trequartista e poi vai a capire come Giampaolo lo avrebbe utilizzato e in che modo anche rispetto al modulo che poi adotterà nel proseguo della stagione poi diciamo che le parti si sono definitivamente allontanate nell'ultima settimana quando il Milan ha messo sul tavolo l'opzione del prestito biennale che poi è stata la soluzione trovata per Rebic una soluzione non idonea alle finanze dell'Atletico di Madrid che aveva bisogno di incassare immediatamente cash per poi attuare e mettere in atto l'operazione Rodrigo con il Valencia quindi diciamo che poi la trattativa si è interrotta su quel punto anche la parte economica le parti economiche ne erano abbastanza distanti perché l'Atletico chiedeva 50 al Milan sarebbe arrivato al massimo a 40 nell'operazione totale però ripeto il prestito biennale era infattibile per l'Atletico di Madrid Jacopo tra poco contano da te perché c'è una curiosità molto interessante su un giocatore che è stato associato e è stato trattato dal Milan nelle ultime settimane ma poi al Milan non è arrivato su Modric Jacopo è stato chiaro ha detto una vera e propria trattativa non c'è mai stata però che il brand Milan per Luca Modric avesse ancora un perché ma io credo che il brand Milan valga moltissimo non per Modric ma per tutti c'è ancora un appeal questo Milan ma assolutamente sì il Milan è la squadra che dopo il Real Madrid ha vinto più Champions League una squadra che ha conquistato il mondo non soltanto con i successi ma anche con una con un modo di giocare che certamente ha lasciato negli occhi di tutti anche all'estero dei ricordi pazzeschi per cui non è che dobbiamo sminuire il Milan semplicemente perché ora è in una condizione oggettivamente molto lontana da quello che è il suo standard da quella che è la sua storia soprattutto la storia degli ultimi 30 anni gli ultimi 30 anni diciamo di 25 degli ultimi 30 anni insomma perché sono 5-6 anni che il Milan è lontano da quella storia in un modo in un altro però è chiaro che i campioni che sono stati al Milan il modo di giocare del Milan è qualcosa di straordinario così come noi non ci hai mai creduto te stesso no io non ci ho mai creduto perché le cifre sono irraggiungibili è davvero difficile mettersi al tavolo è come se tu vai a comprare una Ferrari lo dico con rispetto vai a comprare una Ferrari con 100 euro in tasca cioè è proprio anche se quello te la vuole dare a tutti i costi però alla fine è proprio una cosa improponibile quello guadagna 12 milioni di euro netti a stagione in questo momento è completamente fuori dai parametri del Milan almeno che Modric non impazzisca e dice vengo al Milan a guadagnare un terzo però visto che i soldi hanno un valore per tutti sono milanista e lui ha detto sono milanista io dico vengo anche gratis perché io sono milanista siccome io a queste fregnacce perché lo dico anche per quelli della Juve c'è quando mi vengono a dire De Ligt ha messo la maglia da ragazzino quindi della Juventus quella era Juventus non è Juventino De Ligt questi sono tutti dei professionisti vanno se quei soldi li pagano molto si chiama Milan di nome si chiama Milan di nome si ma a me non tolgo io faccio il discorso che faceva Stefano un conto adesso è un milan purtroppo di ricordi che poi andiamo a vedere la storia del calcio il Milan ne ha scritte pagine e pagine tanto di cappello le sette coppe io gliene invidio con tutte le finali che ho fatto e che ho perso e loro che le hanno vinte io gliene invidio molto quando dice a Rosi che sì mi dà fastidio Manchester non ne parliamo proprio capisci però quello era un Milan è una sua storia in questo momento c'è un Milan che non è nemmeno lontano parente Modric che è un giocatore che ha vinto fino all'altro ieri le Champions League ha in mano il pallone d'oro io mi chiedo come potevi pensare che potessi venire al Milan che non fa neanche le coppe perché Boban ci dice che forse Milanista faceva più bella figura a Boban a dire Modric è un mio grande amico ho provato a convincere un conto è dire così un conto è dire milanista ma dove? ma guarda non ha provato proprio a convincerlo non ha provato proprio a convincerlo non ha provato proprio a convincerlo non ha mai provato a convincerlo no ma lui non ha mai avuto ma non l'ha detto non c'è mai stata trattativa non c'erano le condizioni loro lo sanno quando vai da Modric prima di andare chiedi a Gresti o a Blanchini o a Paolo Vincenzo non c'erano le condizioni quando guarda di Modric 12 unioni di interna vabbè non c'erano le condizioni anche per Cristiano Ronaldo anche per Cristiano Ronaldo non è vero ma non è quello il discorso allora quando va Cristiano Ronaldo tramite come si chiama Mendes parli con un'operazione che ha fatto portare nelle casse di Milano in 14 minuti circa 800 milioni e ne ha spesi 224 sul mercato ma qual è questa operazione? Passone e Mirabelli quella gestione di Yongon Lee porta 600 milioni nelle casse di Milano e 224 di mercato quindi ci sono e come i presupposti Passone dice io non so con chi ho a che fare perché vado a Pechino non mi porto in un ufficio però sul conto corrente è sempre divertente però questo lo ha detto a Gravina Fabricini e a Costa Curta in leg in federazione queste cose non è che le ha dette a me i soldi ce ne sono a milioni a decine sì e Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes non essendo due pirla di bucinazzo vanno a parlare con Passone e Mirabelli e gli dicenti considerando che io pago 100 mila euro di tasse lo sai forfettari l'anno prossimo in Italia io vengo volentieri al Milano si può fare chiamiamo cinese giapponesi Monza perché bisogna chiamare prima Arcore non ha e questo è inutile di uno dire no ma figurate se ci va allora voi parlate di top player io ti dico che nelle ultime due finali di Champions League in campo c'erano nove non uno nove giocatori che nelle ultime sei stazioni giocavano nel Southampton sai che cosa è il Southampton non lo voglio paragonare perciò si incazzano i tifosi italiani però è una squadretta per la quale io faccio un tifo d'inferno tutto l'anno da 30 anni e va su e giù dalla premia nella seconda si salva l'ultima giornata nove giocatori sì bene anche con me beh insomma nove giocatori negli ultimi tifosi anni non spera che si salva nelle ultime quattro giornate se vogliamo ci aggiungiamo bene ma anche il Milan ha comprato Benassere e Krunic che si sono retrocessi con l'Empoli se sono bravi sono bravi ha preso Sensi ha preso Marella e cosa sto dicendo però io sono i top player oggi quello che voglio dire scusa Luca tornando su Cristiano Ronaldo ma Cristiano Ronaldo è Jorgen Mendes che è uno che insomma rifiuta gli affari e sa dove portare Cristiano piuttosto che Ames Rodriguez quando li muove ma un conto è quando parla con la Juventus che gli dice al contatto con Paratic bene viene a parlare di Cristiano con Andrea Agnelli un conto è andare a parlare con un cinese che non sappiamo manco lui dove è finito ti mancano dei tasselli forse tu non sai chi è stato l'orchestratore dell'operazione Berlusconi Yongon Lee è stato l'orchestratore? è stato Jorgen Mendes con il signor Fassone è lui che gli ha trovato il cinese no non è che gli ha trovato ho usato un termine diverso aiutami ogni tanto tu le fai ha orchestrato l'operazione ti difendi benissimo e lì è partito Andrea Silva sono partiti tutti i suoi ma Jorgen Mendes ha orchestrato siccome pensava allora te le dico perché questo qua non è un aneddoto da 3 settembre a 7 gol ma Luca ma un conto è dare la storia che Cristiano Ronaldo di Jorgen Mendes si vabbè Andrea Silva suo uomo un suo giocatore ma un conto è darvi Andrea Silva che adesso lo state sbattendo fuori un conto è darvi Cristiano Ronaldo allora ricomincio capisco che è dura sì però è sempre spizioso perché ti spieghi anche uno scenare di un club che viene dato con le pezze al culo e da gennaio 180 milioni di cash tutte le operazioni in Milano le paghe in un'unica soluzione subito era un punto di forza no adesso questa è materia sua però quando a gennaio sono andati per l'ennesima volta l'UEFA e hanno chiesto all'UEFA illuminaci su un argomento tanto per dirne uno solo se io vado da signor preziosi che vuole 50 milioni per Piontek in tre anni e io gli dico no te ne do 35 subito e questo me lo vende io ho venduto ho risparmiato 15 milioni ma tu mi dici che non va bene tanto per fare un piccolo esempio però l'Europa League il Milano però io quello che non riesco a farmi capire è che siccome non c'era nessuno al mondo più di Jorge Mendez che sapeva che giravano centinaia di milioni tra Milan e Elliot che è stato il proprietario del Milan dal primo giorno basta leggere lo statuto della Rossoneri Luxembourg aveva diritto di veto su tutto quando c'era Young Lee presente Young Lee era un fattorino della Delivero consegnava le pizze portava le borse con i soldi non hanno mai parlato non hanno mai parlato con lui sono andati a parlare con Berlusconi e con Fassone però hanno parlato anche con De Laurenti si è anche un po' con lui l'ho detto ma l'ho detto l'ho detto la Juventus più delle altre non è che avesse i soldi questa è la differenza la Juventus ha capito per prima a parte Marotta che c'era da fare una fusione di aziende con CR7 non c'erano per pagare 100 milioni per il cartellino si però la fusione è poi da sostenere negli anni infatti la Juve ma se tu te ne vai dopo tre anni lasci sul piatto un pezzo te ne vai in Cina metti Gip sulla maglia e finalmente nonostante le Champions che la Juve non vince però è una visibilità internazionale enorme dalle due finali e dal fatto che gioca il più forte giocatore nel mondo è un'operazione che ha un senso ma il terzo club è quale vanno loro questa è la storia non è un poi c'è di mezzo sempre anche il Napoli giusto torniamo subito che Giacomo ci racconta quest'aneddoto di un giocatore che sembrava vicinissimo al Milan e al Milan non è arrivato e poi dirottiamo sull'argomento Mauro Riccardi da ieri un giocatore in prestito al Paris Saint Germain in altra posta grazie a tutti 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 scusate il gioco di parole, quindi il Milan poi ha desistito e Tyson non ci è rimasto benissimo, anzi si è sfogato tramite i social, ha pubblicato una storia su Instagram che possiamo anche vedere assieme scrivendo complimenti per aver posto fine al mio sogno. Un'altra volta il mio sogno è stato cancellato, vedremo come risponderà lo Shakhtar a questo sfogo di pancia da parte di Tyson. Allora lui è brasiliano, in Ucraina dal 2013 ha un contratto fino al 2021. Sarebbe stato un altro giovane per il Milan? No, giovane no, però... La politica appunto? Ah, è la politica dei giorni, pensavo. No, pensavo la politica dei giorni. Perché il Milan è andato là per il prestito e avendo il contratto di prima del 2021, faceva questa stagione, l'anno prossimo le lo riportava. Certo. E in quelle condizioni non era fattivo. Volevano la clausola per intero, il Milan però oltre i venti è andato. No, non c'erano soldi, non c'era la proposta di un prestito. Comunque sia, è chiaro poi che gioca nello Shakhtar, l'idea di venire al Milan in assoluto lo affascinava, è normale. Ci ha parlato anche la Roma con lo Shakhtar per Tyson e non è riuscito a prenderlo nemmeno la Roma. Infatti lui si riferisce proprio all'ipotesi italiana, non solo il Milan ma anche la Roma. Non lo so, può darsi, ma insomma è chiaro che... Però il giocatore non decide sempre. Più che altro il giocatore decide quando firma un contratto con la Juve, con il Milan, con lo Shakhtar, con chi vuole lui. E poi non è che può pensare di fare come vuole. Se la sua società ritiene che quel contratto debba essere rispettato, credo che Tyson, fino a prova contraria, abbia firmato senza che nessuno gli mettesse una pistola alla tente. Insomma, qui rimane a giocare nello Shakhtar che tra l'altro è un club che paga anche, credo è sempre stato così, bene e con grande regolarità. Se lo trova l'Atalanta nel girone. Vediamo la formazione del Milan per chiudere il cerchio, 4-3. Noi abbiamo messo 2-1, un po' una via di mezzo tra l'1-2 e il 3-3. Però come ci insegna Gianpaola alla fine sono solo numeri, poi sono i movimenti da davanti che faranno la differenza. Sicuramente avrei portato Suso a gravitare un po' sulla destra ha aiutato questo Milan. Donnarumma, Calabria, Musacchio-Romagnoli e Hernández, quelle sono le alternative con un in bocca al lupo particolare a Caldara. Chessi, Benasser, Cialanoglu, Paquetà in ritardo di condizione per ora si siede. Suso e Rebic a far da supporto a Piontek. Non ti convince? No, non è che non mi convince. Una squadra che non fa, ripeto, che non gioca in turni infrasettimanali, ha sei titolari per tre posti a centro-campo. Vuol dire che la programmazione, che è successa un po' la cosa che è successa alla Juve su un altro tipo di livello, ha preso dei giocatori pensando di cederne altri, però poi quelli che se ne dovevano andare non se ne sono più andati. Cioè tu dici, ha troppa abbondanza a centro-campo? Sì, allora Krunic e Benasser li ha presi per giocare o per... Krunic con tutto il rispetto. Va bene, allora risparmi 8 milioni di qua, l'ingaggio di Biglia di là, Teo Hernández magari... Poi tu fai questa grafica stasera e togli le cose e dici, eh ma se si fa male, eh ma se poi non gioca, eh ma l'anno scorso con tutti gli infortuni, eh ma a me hanno insegnato che in una grande squadra ci deve essere una grande concorrenza. Quindi chi se ne frega, se li gestisse, Gianpaolo. Krunic ha fatto sei gol e otto assist l'anno scorso, tutta parentesi. A aprile io, me li mandano i titoli, c'erano Inter, Juventus e Napoli, era il nuovo Zielinski, adesso uno speriamo che non giochi. Non speriamo che non giochi, io credo che... Non lo so, io chiedo. Anche perché mi sto domandando, no? Il titolo di Inter, Juventus e Napoli sul nuovo Zielinski. Uno dei miei misteri in questo momento è questo. Vai Stefano. Il Milan ha fatto due grandi colpi prendendo due giocatori dall'Empoli. Il Napoli ha fatto un grande colpo prendendo un giocatore dall'Empoli. Il Sassuolo ha fatto un grande colpo prendendo un attaccante dall'Empoli. E Traore, vabbè. E Traore che è della Juve. La Juve ha fatto, vede sempre oltre, ha preso un grande giocatore. Perché l'Empoli? Ma perché l'Empoli è retrocesso? Non me lo volete spiegare? Giacchini? Perché è retrocesso? Apparenze di Giacchini? Aspetta, la Fiorentina ha mandato via la Font perché c'è il portiere che arriva dall'Empoli, ma vuoi mettere? Io vorrei capire perché l'Empoli è retrocesso. Con tutti questi fenomeni vorrei capire perché c'è qualcosa che non ho capito. C'è stata la Traversa di Sassuolo. No, scusa, scusa. Attraverso. Non c'è la Traversa. Posso? Posso? Prego, caro. Allora. Wanyama. E se ti levi gli occhiali sono cavoli. Lovren, Van Dyck, Klein, Lallana, Chamberlain, Sadio Manet. E uno dice, ma scusate, ma con questi effetti come mai il Sautempo? Tre degli anni. Tutti insieme ce li aveva. Beh sì, guarda, Klein, Lallana, Chamberlain, Lovren e Van Dyck hanno giocato a schiena. Cinque su otto su. Quindi non è che... Anche Manet ha fatto due anni, poi se li vengono e si riportano via. Se l'Empoli avessi tenuto Andrea Fusoli tutta la stagione... Ma quell'anno non è retrocesso. L'Inter prende Barella dal Cagliari e... Ma quell'anno non è retrocesso il suo tempo. No, è tanto che non sono sette anni che non retrocediamo. La prima cosa che abbiamo detto quando è arrivato Giampaolo, forse è più giusto un allenatore come Giampaolo che ha un'idea di gioco con la fantasia e i trequartisti, la qualità e il calcio propositivo, perché il Milan già in rosa fa che età e recupererà Bonaventura. E poi però c'è anche Cialanoglu e poi si scopre durante l'estate che per Giampaolo Suso forse è il miglior trequartista della rota. Sono quattro per un trequartista che alla fine della prima giornata si scopre che forse non è il modulo ideale perché non si valorizza Pionte. Con le risorse che c'erano bisognava fare delle scelte un po' più nette, non rimandare durante l'anno. Ma scusa una roba, io non ho detto... Cioè, secondo me, non è che sono nessuno. Oggi improvvisamente, in un calcio, fra l'altro in un club che onestamente negli ultimi dottoranè non è stato molto fortunato, perché la maggior parte degli infortuni del Milan sono stati più traumatici. Caldare i conti, buonaventura. Allora, no, Caldare, Conti, buonaventura, se sono fatti male Musacchio, Pachetapertino, sono fatti male tutti. L'abbondanza non è mai stata un problema. Stasera diventa un'abbondanza e terminano due giocatori per ruolo. Vabbè, ma se serviva ottimizzare... Poi, con tutto rispetto, non Iniesta e... Appunto, sì. C'è una banda di ragazzi che devono crescere, alcuni già affermati, insomma, Conti rispetto a Calabria gioca un altro sport, ma se non sta mai bene, cosa devi fare? Duarte si ambienterà, Caldare non c'è mai, Tirlandes, sai quello... Lui, Rodriguez, ai mondiali c'è andato, noi no, l'Italia no, ma lui era capitale con la spizia e c'è andato. Ebbè, ma è diventato un'abbondanza. In panchina, in panchina, un nazionale, quando invece a centrocampo forse bastava uno o due giocatori che fanno la differenza, non tre o quattro scommesse, da aggiungere ad altri tre o quattro medi. Il Milan vuole arrivare quattro, l'ha detto Boban. Ma a centrocampo era quello, c'erano che si e Pachetà e ci sono che si e Pachetà. Mancava uno, visto che su Biglia non puoi fare affidamento, che avesse particolari. Sei partito da Torrera, sei passato per Praet e per Veretù, e sei arrivato a Benassert, che secondo me è il meno peggio di tutti. Torrera era a Sampdoria un anno fa al Pescara. Io sono d'accordo con le parole di Boban. Torrera era al Pescara. Se no sembra sempre che uno deve andare a prendere. Poi dopo mezz'ora che parlavo non mi avete fatto il nome di un top player. Me l'ha detto De Paolo che l'hai subito. De Paolo. Ma vado via. De Paolo. No, Remis, no, ma De Paolo. Ma scusami, ma non di un top player, ma di un giocatore che ha un costo accessibile. Da Milan, che può andare al Milan. Ma di un giocatore... Tutti questi erano accessibili. Infatti sono arrivati... Scusami, come si è un top player? No, il nome del top player l'abbiamo fatto. Era Modric. Ah, Modric. Ma che Modric c'era la fede? Ad Modric non è mai stato. È stato solo un altro mio. L'unico top player di cui abbiamo parlato per il Milan è Modric. Poi tu hai tirato fuori Cristiano Ronaldo, vabbè. Ma voi, sì, ma era una battuta. Continuo con te, però non capire. Ma è la storia questa. Due anni fa... Lo trovo impossibile, però... Berlusconi fosse stato ancora presente... Ah, beh, se c'è... Continuo a non capire. Io dico... E allora... Vabbè, non è che ti regalano i top player, scusami. E quello non è... Ha cambiato la faccia dei tifosi. No, Iguain non te l'hanno... Iguain te l'hanno regalato perché ti hanno regalato insieme anche Caldaro. Due milioni all'anno. Al di là di quello... Quello che ti voglio dire è che io credo che... È un prestito. Io credo che con i 30 milioni... Con i 30 milioni che tu hai speso per Leao, con i 40 che pensavi misteriosamente, a mio avviso ancora, di investire per Correa, io dico... Ma prendi... De Pollo. Ma prendi De Pollo. De Pollo, ancora con... E quelli c'è la cifra, De Pollo, ma perché no? Pubblicità tornavo con i cardi che tirassero. De Pollo è un top player. Ma non è un top player. Il top player non te li dà nessuno a 30 milioni. Il top player non te li dà nessuno a 30 milioni. Non ti li dà nessuno a 30 milioni. Io sono iniziato... Mi sono iniziato... Partiamo... Ma prendi... Ma prendi... E poi prendi... C'è la città. Quando prendi... Per ora... Da! Ma prendi... Il t'io. Mi sono iniziato... Ma prendi, un'acrote... È un'acrote... Che c'è... Il ma prendi... Lo so... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. per quello che chiede a tutti. Grazie 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 a tutti. Io dico. due volte. Grazie a tutti. 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 va bene. Grazie a tutti. Marotta. Grazie a tutti. 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 Ciao, buonasera. Grazie a tutti. a tutti.